Quando l'ho leggerato qui sul mio vecchio interbuso, io mi stavo trovando il nuovo interbuso, ma senza per me non mi metto. Non ha l'effetto, non so, mi resta in pausa, non ha l'effetto, ma è molto poco. Ma che busi tu? No, non ho un altro interbuso, adesso non mi metto tra le due, ma per me non mi metto, non mi metto. Un ottimo campo, dobbiamo diciamo abituarci un po', però rispetto all'altra volta non c'è proprio paraguolo. No, bene, bene, è un campo adatto per i giocatori tecnici, l'erbetta è un po' più alta rispetto a quella di Naro, quindi mi trovo bene su questo campo. No, il campo devo dire che mantiene bene, è soffice anche per i portieri, che di solito quando vanno a terra possono essere oggetti a esplorazioni, però devo dire che mantiene molto bene. Terreno di gioco ottimo, ottimo, veramente bello e veramente una struttura diciamo all'altezza della situazione. Parliamo anche di questo campo, come vi siete trovati? Molto bene, dico la verità, rispetto al precedente che era un disastro, questo qui è eccellente. Non l'ha che vedere. Il campo è ottimo, penso che sia alto al punto giusto, almeno non rischiamo di farci male rispetto a quello di prima, sicuramente è tutto un altro livello. È molto molto bello, è 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 molto bello. Sono senso di essere prato, comunque invece, ben, molto bello, è mettendo a un parole in una trattazione, è quando abnea si bloca alla luce e poi la recensione, è quella di essere attuando una t aquella triuntore. Aspetto alle altre Viktore due siamo 3.9� perchè, secondo me, sono tre di ascolti a delle domande questo tipo di ricic poli... No, 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 no.